Teledurruti, il marchese Fulvio Abate, ci avete rotto il cazzo col bene, secondo voi, posto che un artista ha come dovere la propria fantasia, secondo voi, Picasso, mentre dipingeva Le damoiselles d'Avignon, oppure il quadro cubista analitico intitolato Magioli, dedicato alla donna che amava, oppure Mondrian, quando realizzava Broadway Boogie Boogie, stava pensando al bene? Punto di domanda, il bene col quale ci ricattate, dovete infilarvelo dove sapete, Teledurruti, Fulvio Abate.